Silvia Tosti, schiacciatrice della SCM Graficonsul San Mariano, autrice della triplette, dopo non c'era Umbra, dopo Benevento arriva a San Mariano, tre promozioni in Serie A. Questa è la terza, è la famosa stella che manca, è sempre l'ultima, la più bella? No, tutte belle, tutte diverse, ma è bella anche questa, diversa e meritata al certo per cento. Una partita veramente dominata, quella oggi contro il San Casciano, forse il terzo set si è temuto un attimo che potessero risorgere? Sì, ma ce l'abbiamo fatto credere un attimo, visto che ora avevano dichiarato che erano più forti di noi, quindi ce l'abbiamo fatto credere un incontro, mi dispiace. Oggi un messaggio per Yuri, ti sei sacrificata, non hai fatto 15 punti personali, però l'obiettivo era un altro. Se ne fado io la scelta, non so se ne vado bene uguale.